Avanti, fammi sentire vivo! Fammi assaporare ancora la vita! Nick, non puoi battermi con un'arma come quella! Nick, non puoi combattere! Bene, ora possiamo combattere! Davvero il guerriero? Tolpo, Tolpo! La base del combattimento! Solo un folle affida la sua vita a un'arma! Nick, non puoi! Grazie a tutti. 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 Che cosa ti sta succedendo? E' tutto finito? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa? Grazie a tutti. Stavano? Stiamo usando un soldato per i loro esperimenti di terapia genetica. Non l'ho mai saputo. Accadde a tutti. Grazie a tutti. Lo ha portato in vita. Lo ha infilato in un prototipo di esoscheletro e lo ha tenuto sotto sedativi per quattro anni, mentre faceva esperimenti su di lui come se fosse un giocattolo. I soldati genetico. I soldati genetici di oggi sono il risultato di quegli esperimenti. Questa è la cosa più schifosa che io abbia mai sentito. Lo hanno usato per sperimentare tutti i tipi di tecnica per la terapia genetica. Naomi, perché non ci hai detto prima di questa storia? Perché si tratta di informazioni riservate. È l'unica ragione. Naomi, cos'è successo in seguito a Gray Fox? Il rapporto afferma che è morto nell'esplosione. Ho capito, ma anche se quel ninja fosse Gray Fox, la domanda è perché si trova qui? Non so, ma da quello che ho capito lui non si ricorda chi era. Intendi dirmi che è ridotto a un robot senza mente? Non ne sono certo, ma sembra intenzionato a combattermi fino alla morte. Ci incontreremo ancora, ne sono sicuro. Allora lo affronterà di nuovo? Fino a quando non lo ucciderai? Non lo so. Mi sembra che sia questo quello che vuole.